I carabinieri forestali hanno identificato l'automobilista che all'inizio del mese aveva percorso con l'automobile la scalinata di San Bernardino. Una bravata che è costata cara e costata una sanzione per violazione al codice della strada, ma anche una denuncia per danneggiamento. È registrata in un video che all'inizio di marzo ha fatto anche il giro del web. Nel video si vede infatti un'auto che percorre la scalinata di San Bernardino. L'episodio era stato guardato con sdegno da tutti i cittadini, ma anche dal sindaco dell'Aquila, che aveva detto le immagini dell'automobile ripresa sulla scalinata di San Bernardino fanno male al cuore degli aquilani e testimoniano un grado di inciviltà e barbare che lascia a Basiti un gesto che non può essere derubricato come semplice bravata, ma che invece testimonia spregio e disinteresse verso uno dei simboli della città. Spero che il responsabile venga al più presto individuato dalle forze dell'ordine. E le indagini dei carabinieri forestali hanno avuto l'esito sperato. I militari del Nipaf infatti si sono messi al lavoro e attraverso l'analisi del video e delle altre telecamere posizionate in dona hanno individuato il trentenne che era appena uscito da un ristorante insieme ad un amico e ha pensato bene di percorrere la scalinata di San Bernardino. Il giovane è scoppiato in lacrime, è ammesso tutto e si è scusato anche con il personale investigativo e con l'intera città.